L'agenzia di rating Standard & Poor's che mette giudizio sulla qualità e le capacità degli stati di ripagare il debito aveva messo sotto osservazione il rating italiano già a maggio del 2011, quindi il taglio che è avvenuto stamani non giunge inaspettato, giunge improvviso solo sui tempi perché lo si attendeva tra qualche giorno, forse tra qualche mese invece Standard & Poor's ha anticipato ad oggi questo taglio, già ieri Moody's che è la concorrente aveva parlato di possibili downgrade parlando delle difficoltà delle regioni italiane a ripagare il loro debito, diceva il debito è generato soprattutto nelle regioni lì ci sono i problemi e presto potremmo anche per questo motivo tagliare il debito e le valutazioni sul debito dello Stato italiano Standard & Poor's forse in competizione con Moody's ha preferito accelerare e oggi ha tagliato il debito come andavano le cose in Italia si sapevano, qui si stanno sottolineando soprattutto i problemi dell'esecutivo del governo Berlusconi a ripianare il debito che è superato i 1900 miliardi di Euro, quindi una cifra stratosferica è il più alto degli stati con rating sopra la A e quindi come risolvere questo problema sembra non essere in grado la politica italiana, a questo punto però quello che preoccupa di più e dovrebbe preoccupare di più i mercati non è tanto quello che ha fatto oggi Standard & Poor's che probabilmente era già scontato perché sappiamo che i mercati comunque ieri avevano già perso il 3% ed è da tempo che sono sotto pressione, la verità è che le prospettive dell'Italia passano da stabili a negative, il che significa che Standard & Poor's a breve potrebbe ritornare e rivedere ulteriormente a ribasso il rating dell'Italia, questo è quello che deve spaventare.